In provincia di Salerno 40 comuni al voto con basse percentuali rispetto alle precedenti amministrative. Intanto sono già stati eletti i primi sei sindaci unici in corsa nei loro comuni che hanno raggiunto il quorum del 40% dei votanti. Si tratta di Fortunato della Monica di Cetara, Pietro Pentangelo di Corbara, Paolo Astone di Ogliastro Cilento, Anna Maria Caso di Praiano, Pasquale Buonocore, Conca dei Marini e Filippo Ferraro di Corletto Monforte. Le percentuali di voto alle ore 23 di domenica 3 ottobre a Salerno il 47,44%, ad Altavilla Silentina il 57,81%, Battipaglia 52,51%, Canalonga 43,27%, Castessa Lorenzo 51,26%, Castellabate 42,48%, Ceraso 29,58%, Cetara 56,44%, Conca dei Marini 53,47%, Controne 37,20%, Contursi Terme 59,47%, Corbara 56,79%, Corletto Monforte 32,66%, Eboli 49,78%, Fisciano 53,43%, Giffoni Vallepiana 44,62%, Moio della Civitella 32,07%, Monte San Giacomo 41,43%, Monteforte Cilento 36,85%, Montesano sulla Marcellana 43,83%, Ogliastro Cilento 46,75%, Orria 37,20%, Padula 30,89%, Perdi Fumo 50,63%, Pollica 37,45%, Praiano 43,78%, Ravello 55,52%, Rocca d'Aspide 55,12%, Salerno 46,54%, San Mauro La Bruca 44,04%, San Tegidio del Monte Albino 59,01%, Santa Marina 44,40%, Serra Mezzana 38,11%, Sessa Cilento 47,63%, Siano 60,73%, Teggiano 33,34%, Tortorella 30,93%, Trentinara 50,88%, Vallo della Ciudici di oggi pomeriggio termineranno le possibilità di votare per quanto riguarda i cittadini e poi subito dopo si partirà con lo spoglio. I risultati entro stasera.